E' stata scelta come testimonial di legalità dalla Guardia di Finanza, Miele, la cantante nissena che ha spopolato a Serremo giovani, sarà ospite con un messaggio video registrato alla grande giornata della legalità organizzata al Teatro Regina Margherita per il 15 di marzo dal Comando Provinciale delle Fiamme Gialle. Il messaggio indirizzato ai giovani fruitori di musica contro la pirateria è stato registrato al Comando Provinciale di Caltanissetta dove sono stati ammessi anche giornalisti per assistere e scambiare un paio di battute con l'artista che ha regalato anche un live di due canzoni che saranno ovviamente trasmesse tramite un video wall nella giornata dedicata ai giovani studenti. Ovviamente non è mancato il ritornello di Mentre ti parlo accompagnata dal suo federe chitarrista il maestro Pep Milia. In realtà quella di Miele alla Guardia di Finanza è stata la prima uscita ufficiale dopo Serremo dinnanzi alla stampa. Io parlo veramente perché mi trovo in prima persona ad essere chiamata in causa perché comunque la musica in generale forse è vista come, non lo so, non come comprare una pizza e purtroppo il fatto che venga scaricata legalmente permette a chi vuole fare questo mestiere di poterci vivere. E quindi vorrei parlare come una ragazza e fare capire ragazzi io ho una passione, voglio fare questo nella vita, vi prego di sostenere la musica e considerarla come qualsiasi altro bene. Noi ci teniamo a dare lustro a quelli che sono i personaggi della provincia. In secondo luogo perché risponde esattamente al messaggio che vogliamo lanciare. Si dice spesso che ho sentito dire che la musica è un bene come gli altri. Io oserei dire che è qualcosa di superiore perché sfido chiunque a vivere in un mondo senza musica. Pensare a un mondo senza musica per me è quasi impossibile. Allora noi dobbiamo oltre che il rispetto anche il ringraziamento a questi artisti che ci permettono di essere contornati dalla musica e di vivere determinate emozioni perché l'uomo è fatto soprattutto di emozioni. E il nostro ringraziamento lo dobbiamo anche attraverso il rispetto delle loro opere che sono opere loro, che hanno creato loro e dietro c'è tanto sacrificio, c'è studio, c'è lavoro. Per cui ogni volta che noi scarichiamo illegalmente un brano è come se chiedessimo a qualcuno di andare a lavorare gratis. Non credo che nessuno sia disposto a lavorare gratis e non vedo perché lo debbano fare gli artisti che ci regalano tanto in termini di emozioni.